Musica Buonasera e bentrovati. La cronaca in apertura. Otto mesi di indagini serate hanno portato i carabinieri all'arresto di uno spacciatore. I fatti risalgono infatti al mese di gennaio, quando un intervento della protezione civile nei boschi della Valganna tra Borrezze e Mondonico aveva disturbato gli spacciatori che abitualmente incontrano parecchi clienti da quelle parti. Le avevano così costretti alla fuga, ma uno di loro inavvertitamente aveva lasciato sul posto il proprio cellulare. Utile traccia da cui i militari dell'arma di Luino hanno avviato le prime attenti indagini, risalendo al contatto di centinaia di persone, molte delle quali appunto clienti degli spacciatori. Sono state proprio loro, una volta convocate dai carabinieri, a fornire un'identichità utile per ricostruire l'accaduto e soprattutto individuare il proprietario del telefonino, questo pusher magribino di 30 anni che nel frattempo si era trasferito a Vigevano. E proprio lì, grazie a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Varese, i carabinieri lo hanno trovato e arrestato. Torna a partire dal lunedì l'appuntamento quotidiano con Varese Mese, in onda dal lunedì a venerdì, poco dopo le 20, è condotto dalla collega Chiara Milani. L'ospite di questa nuova edizione e di questo esordio sarà Antonio Calabro, vicepresidente di Asso Lombarda, di recente entrato anche ai vertici dell'Università Cattaneo. Un'anticipazione? Io credo che un secondo lockdown sarebbe una gravissima battuta d'arresto per tutta l'economia del Paese, ma anche per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Un'economia cresce se c'è una condizione di fiducia nel futuro. È necessario che le strutture sanitarie siano messe in condizione di svolgere bene il loro lavoro da questo punto di vista che si continui a perdere tempo per stupidità ideologica. Nel rifiuto dei soldi del MES è una responsabilità gravissima. Ci sono 37 miliardi disponibili da parte dell'Europa a un tasso di interesse pari a zero o poco più per mettere il nostro sistema sanitario in condizioni di funzionare, che vuol dire di assistere i cittadini, di essere presenti, di fronteggiare le eventuali crisi. Ecco, non prendere i soldi del MES è un gravissimo errore politico. Antonio Calabro, direttore della Fondazione Pirelli, vicepresidente di Asso Lombarda e presidente di Musei Impresa, nonché nominato quest'estate nel CDA dell'Università Liuccarlo Cattaneo di Castellanza, è il primo ospite della seconda stagione delle interviste TV di Varese Mese, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.05 su Rete55, a partire dal 31 agosto. Quando, appunto, il giornalista e saggista parlerà di Milano, la Lombardia e l'Italia con la sua ricetta per andare oltre la fragilità, per citare il titolo del libro che ha pubblicato dopo il lockdown. In attesa di vedere in onda l'intervista integrale, che poi rimarrà visibile sul sito della testata multimediale, ecco qualche spunto di riflessione sul ruolo delle università. Gli Atenei italiani sono davvero i grandi dimenticati di questo periodo? Io non so se siano dimenticati, so che sono uno dei punti di forza fondamentali di questo paese. I grandi Atenei, penso ai Politecnici di Torino e di Milano, penso alla Bocconi, e le piccole università dinamiche come la Cattaneo, qui a Castellanza. Cosa dice il Recovery Fund messo in piedi dall'Europa? Bisogna investire su green economy e innovazione. E il nome stesso del Recovery Fund è chiarissimo, Next Generation, i giovani. Bisogna sapere che nell'economia della conoscenza, nell'economia degli algoritmi, servono conoscenze e competenze aggiornate, con una formazione di lunghissimo periodo. Il che è una sfida per le nostre università, non soltanto rispetto ai giovani, ma anche rispetto a generazioni più anziane, che perdono lavoro e che devono crescere e studiare per trovare altri lavori. In questi giorni stiamo seguendo passo per passo le dinamiche relative alla campagna elettorale in corso. Si vota, come sapete, nel weekend del 20 settembre. Tra i comuni più importanti del nostro territorio interessati al voto c'è Luino, che presenta anche qualche tratto frizzante della propria competizione. Oggi in particolare riprendiamo una nota di Furio Artoni, che è candidato sindaco e considera se stesso e la propria lista gli unici davvero titolati a sostenere l'ospedale di Luino, divenuto uno dei temi cardine di questa campagna elettorale. Le sorti del nosocomo infatti sono assolutamente al centro di tutti i programmi, ma secondo Artoni solo la sua azione civica per Luino e Frazioni, le carte in regola per potersi misurare con questo argomento. L'ospedale, scrive Artoni, è ormai abbandonato, come dimostrano le liste di attese lunghissime e i difficili accessi alla struttura. Tutti i miei concorrenti hanno buoni motivi per non impegnarsi a fondo sul tema, io invece ho le mani libere e potrò fare la differenza. Questo è quanto afferma il candidato sindaco di azione civica per Luino. Cambiamo argomento e andiamo ad un altro appuntamento che ci aspetta lunedì sera, alle 20.10 torna Psicologia in pillole con Erika Minazzi, che affronterà un tema molto delicato, e cioè quello dell'impennata di violenze seguita al lockdown. Qualora tutto ciò che è stato messo in atto dallo Stato nei nostri riguardi, dall'ordine della sanità nei nostri confronti, sia stato vissuto come un acefalo limite, come una violazione della nostra libertà, come una sottrazione di alcuni nostri diritti, è possibile e plausibile che questo abbia portato taluni a mettersi nella condizione di chiedere, come dire, quasi una sorta di storno, di riscatto all'altro, un altro non ben identificato, con cui, come dire, si innesca poi una guerra, si diventa, prima dicevo, in termini acefali, in termini sconnessi, violenti, marcatamente aggressivi, mostrando quote di rabbia, di aggressività, non ben direzionate, e assolutamente, come dire, in grado di muovere il soggetto, che diventa non tanto un esecutore di quel sentire, ma che si fa quel sentire stesso, perdendo in qualche modo potere e autorità su di sé e divenendo fantoccio, burattino, in balia di quel sentire, in questo caso un vissuto di rabbia, di aggressività. Ecco, c'è un'altra possibilità. Su fronte sociale, importante donazione dell'Associazione Varese per l'Oncologia, la SST Settelaghi, all'ospedale di Varese, e in particolare a Oncology. Partito nel 2014 con un gruppo di operatori sanitari volontari, questo progetto è stato poi inserito da Regione Lombardia tra le regole di sistema, come modello assistenziale di riferimento, e oggi è ufficialmente un servizio offerto dall'azienda ospedaliera, sotto legida del responsabile Claudio Chini, che coordina una squadra di esperti composta da 5 infermieri e 4 medici, impegnati quotidianamente nel raggiungere e assistere direttamente a casa i propri pazienti. Quindi un motivo di vanto per la SST Settelaghi e un'ulteriore dimostrazione della sinergia tra il terzo settore, il mondo associativo, e appunto l'ospedale pubblico. Torniamo alla campagna elettorale, ma spostiamoci a Gorla Maggiore. Abbiamo intervistato il sindaco uscente e ricandidato, Pietro Zappamiglio, i suoi punti di riferimento per quanto riguarda il programma da qui ai prossimi anni si riassumono in quattro poli e guardano tra l'altro a una sfida epocale, quella della discarica. Pietro Zappamiglio ha gli albori di quello che potrebbe essere il suo secondo mandato da sindaco, che si programma su quattro punti cardinali. È proprio così, quattro punti per il nostro paese e per il futuro del nostro paese. Il primo sarà il polo dell'innovazione, il secondo il polo socioculturale, poi il polo dell'emergenza e infine il polo del divertimento e dello sport. Sul fronte di Gorla, dell'ecologia, della gestione dei rifiuti, voi avete una realtà molto ingombrante, quella della discarica. Cosa sarà di quel sito? Il futuro è a breve la chiusura della discarica, quindi in questo prossimo mandato ci vedrà impegnati effettivamente nell'affrontare il periodo di ipogestione. Noi lo vogliamo affrontare creando a questo punto, al posto della discarica, un polo ecotecnologico, in cui ci sarà la riqualificazione ambientale del sito, ma soprattutto uno sviluppo di un sistema di energie rinnovabili, a partire dal biogas già presente, quindi con la cogenerazione, e poi il fotovoltaico, e poi ancora il geotermico, che consentirà a questo punto di garantire un introito nelle casse comunali che verrà a finire con la chiusura della discarica. Uno dei suoi punti cardinali riguarda sport e tempo libero. A Gorla c'è un'area feste che potrebbe mettere insieme e valorizzare queste due istanze. Esatto, è proprio così. L'area feste è un fiore all'occhiello di Gorla Maggiore. In questi anni si sono svolte tantissime feste, ricordo ad esempio la festa della birra, da ultimo il Gorla No Stop, la festa della Proloco, la festa dei pescatori. Noi vogliamo dare, oltre a questa vocazione all'area, anche una nuova vocazione, che è quella di diventare luogo di aggregazione per i giovani attraverso lo sport. Quindi siamo disponibili a costruire, realizzare in brevissimo tempo, due campi da calcetto. Verranno realizzati entro il 30 di aprile, saranno fruibili in tutta l'estate per i giovani, a livello gratuito, per tutti i giovani gorlesi, e successivamente con delle convenzioni per gli iscritti alle associazioni di Gorla Maggiore. Ma non solo. Insieme ai campi da calcetto, successivamente verranno realizzati un campo da bibci volley, un campo da basket coperto, e poi una tensostruttura che sostituirà quella esistente, che consentirà a questo punto anche di ricevere durante l'inverno 300 persone sedute. E torniamo ancora a un'altra anticipazione, quella di vivere bene, perché stasera riproporremo l'appuntamento molto seguito con Giacomo Bruno, considerato il papà degli e-book. Vediamo. Cioè il sogno di scrivere un libro o un e-book, poi spiegheremo la differenza, è alla portata di tutti. Basterebbe avere una storia che sia di successo. Sì, sì, sì. Non tanto, sai, il successo. Il successo veramente gli interessa perché è un obiettivo, è una direzione, no? Ma ci interessa spesso sapere le difficoltà. Cioè quali sfide, quali fallimenti le persone hanno dovuto superare. Non è... Tante persone, noi riceviamo 10 proposte al giorno, una marea, poi ne pubblichiamo solo 52 all'anno, quindi purtroppo ne scartiamo tantissime. Però la verità è che molte persone ci dicono sì, io voglio scrivere un libro, ma non so su cosa farlo, non sono un esperto, no? Le persone non si considerano esperti della loro materia. Una mamma non si considera esperta su come si è una mamma, no? E proprio, anzi, questo le rende mamme meravigliose. Però, se ti chiedo che quali sfide hai superato, quali difficoltà, e quante volte sei caduto per terra, beh, allora ti chiederò anche quante volte ti sei rialzato. e allora quelle volte non è tanto i fallimenti, ma tutte quelle volte che hai superato il fallimento. E io voglio sapere come hai fatto, voglio che condividi queste strategie, perché là fuori ci sono milioni di persone che magari stanno affrontando le stesse difficoltà, le stesse problematiche, e vogliono sapere da te come ce l'hai fatta. E veramente, escono fuori libri su ogni tema. Ti dico, il libro di oggi, se vai su Amazon, lo vedi prima in classifica, è un libro di un avvocato che aiuta le persone a ritrovare la propria madre biologica. Pensa che nicchia, piccolina, no? Perché non so adesso quante sono le adozioni in Italia, quante persone non trovano più la propria mamma e hanno questa esigenza. Ma anche solo se quel libro aiutasse dieci persone, che differenza farebbe per quelle dieci persone? Enorme. Ecco, la nostra missione come editore e come io stesso autore è aiutare le persone, che siano una o un milione e non cambia, ma stai aiutando le persone. La pagina culturale è grande successo per questi primi giorni di Corti Sonici, il festival del cortometraggio di Varese è giunto alla diciassettesima edizione, ma ovviamente un'edizione riveduta, corretta e collocata in tutt'altro periodo rispetto al solito per i motivi legati al Covid, all'emergenza e al lockdown. Si sta svolgendo ai giardini estensi, sotto la tensostruttura. La serata di oggi sarà particolarmente intensa, si inizia alle ore 21 con una serie davvero nutrita di proiezioni, tutti i cortometraggi in arrivo praticamente da tutto il mondo. Poi dalle 23 sempre ai giardini la sezione Inferno, che è quella un pochino più trasgressiva e ricercata e poi vi ricordo che domani sera alle 17.45, quindi nel tardo pomeriggio, sempre ai giardini estensi, si terrà nell'ambito di Cortisonici un dibattito dal titolo Il giorno in cui arrivarono Heidi e Goldrick, tutti coloro che appartengono alla mia generazione sanno bene a cosa ci si riferisca. E sempre nell'ambito artistico andiamo ad anticiparvi la nuova puntata di Poetando. Oggi con noi Tiziana Altea presenta la sua opera prima in versi dal titolo Mappe edito da Interno Poesia 2019. Ho dato il titolo a Mappe per due ragioni, uno perché Mappe rappresenta i miei filoni, l'amore, la natura, la resistenza antifascista, le donne, i bambini, la vita, l'umanità. Una seconda ragione però si appella a un principio della programmazione neurolinguistica per cui la mappa non è il territorio. Detto all'osso molto semplificando, significa che ognuno di noi ha una sua visione del mondo, ha delle mappe con cui lo interpreta. E allora io con questo titolo mi pongo da un punto di vista di un'assunzione di responsabilità, di relatività, sapendo che il mio è uno tra i tanti punti di vista possibili e che il mio punto di vista vede un mondo che vuole e prova a dare amore. Quindi con i miei versi, con la mia scrittura che ci tengo a sottolineare femminile, io cerco di dare, di essere fonte, radice, ricerca, dare solidarietà, esprimere lotta e passione, resistenza, libertà, in sostanza una relazione d'amore nel senso più ampio, più universale del termine e anche politico. A tutti una buona serata, le previsioni per domani sabato, molto nuvoloso coperto con piogge sparse più intense a ridosso dei rilievi, soprattutto tra l'ossola e il l'ario, possibili rovesci e temporali, temperature massime in diminuzione tra 22 e 26 gradi, limite neve sulle Alpi verso i 3000 metri. Anche per domenica ci aspetta una giornata coperta e piovosa, forse qualche schiarita verso sera. Per questa prima parte è tutto, dopo le sigle parliamo di sport.